oggi è il 16 di agosto, è stata una notte bella bella dura abbiamo avuto quasi tutta la notte tra i 25 e i 39 di bolina con la barca che prendeva dei colpi esagerati adesso siamo usciti dal flusso più forte abbiamo appena virato e ho messo un waypoint a nord del centro dell'alta pressione in modo da agganciare un po' di vento portante per andare verso la Francia sto facendo colazione e mi sono fatto una roba che non si può... una robaccia tipo una piadina con... tipo piadina devo riprendermi un attimo